Buongiorno bella gente dal pelo lungo e dalle corna belle Siamo a martedì Stasettimana gli spoiler sono usciti con un po' più di anticipo Così invece che lasciarmi dormire almeno Mi danno il tempo dopo però per farmi mangiare a ora di cena Quindi non mi fanno correre come un maledetto nell'ora che va dalle 8 alle 9 Prima di entrare a fare live su Twitch stasera Prima di cominciare però mi raccomando due cose La prima bisogna che sosteniate il Biker Raft Vedo sempre pochi polliccioni verso l'alto Quindi sempre di più spolliciate, spolliciate forte e commentate Ma quanto si tratta dei video del Biker Raft non ho bisogno di dirvi niente Perché sono pochi pollici ma i commenti sono tanti Iscrivetevi al canale se non siete iscritti E campanellina dopplico L'altra spinta è andate di là A fine video c'è un link C'è una pagina finale al centro c'è il link per il mio di canale Segnali di fumetto Andate lì, iscrivetevi Attivate la campanellina E spingete anche quel canale Dai ragazzi, dai Fatemi crescere anche di là Detto questo Iniziamo con il capitolo 1127 Prima cosa importante Importantissima La prossima settimana c'è pausa Quindi Oda si è fatto le tre settimane Poi c'è la pausa canonica proprio di Oda con il jump Quindi tre settimane pausa e torniamo col vecchio ritmo Finalmente Però almeno c'è un ritmo Non ci sono ventordici miliardi di pause Seconda cosa Il prossimo capitolo Il 1128 One Piece avrà La cover del jump Ma soprattutto avrà la color spread Quindi Non ci saranno le mini avventure Non che sia sta gran perdita Vaga Non che sia sta perdita in mane Però comunque Non c'è la mini avventura Capitolo 1127 Avventura nel regno misterioso Quindi Oda continua a giocare in maniera molto 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 sottile Perché non dice avventura nel villaggio dei giganti Non dice avventura nell'isola dei giganti Nel Warland Ad Elbaf No In un misterioso regno Quindi Se lo tiene ancora lì nascosto Non è detto che sia Elbaf Non è detto che sia Elbaf Nella mini avventura Yamato incontra i Nuarashi Quindi Adesso Adesso Ha incontrato il cane Preparatevi Perché sono straconvinto Che Yamato prenderà il seguge al guinzaglio E gli dirà Bello vai Dai cane Vai a Ritrovami quelli che sono spariti Dai Fufì Dai Vai Trovali Mi faranno usare qualcosa E poi In Unarashi andrà A trovare Gli spariti Ma proprio Mi aspetto una roba del genere Perché sarebbe delirante Ma sarebbe in linea Con quello che sta succedendo Poi magari gli dà anche un croccantino Quando li trova Una crocca così Allora Il capitolo inizia esattamente Dove sarà chiuso La settimana scorsa Quindi Nami si risveglia All'interno di Un castello Gigantesco Dove Tutto Quanto È fatto di lego Tutto Le piante Sono fatte di lego L'edificio È fatto di lego I mobili Sono fatti di lego Quindi Tutto di lego Nello script Dicono che il castello Si trova a Elbaf Però io non lo darei per scontato Almeno A meno che Non ci sia Un cartiglio Una didascalia Qualcosa Che dica Che il castello Si trova a Elbaf Io al momento Non ci metto La mano sul fuoco Ve lo dico E di solito I riassunti I primi riassunti Qualcosa di non puramente Verietiero Lo inseriscono Quindi non mi stupirei Che il castello Non sia Ad Elbaf Ok Nel mentre Nami sta Correndo All'interno Del castello Praticamente Viene Inseguita Da degli insetti Giganti Non che gli insetti Giapponesi Siano piccoli Perché mi è capitato Di vedere Delle blatte Di queste dimensioni Quindi Non mi stupisce E mentre Sta fuggendo Dalle blatte Vede E Usop Che è attaccato Da un gatto gigante Lo vede come un topo C'è il nasone Topo Andiamo E lo attacchiamo Provano a combattere Il gattone Ma il gattone Cosa fa? Dà una zampata E spara via Usop Quindi non sappiamo Dove finisce Ma Viene sparato via Improvvisamente Il gatto Si trasforma E diventa Un leone Gigantesco Che E carica Nami E Usop Allora I casi sono due O le blattone E Il gattone Che diventa Un leone Sono Gli effetti Dell'assenzio Quindi In realtà C'è un gattone gigante Ma la trasformazione In leone È veramente Una L'effetto Un'allucinazione Dall'assenzio Oppure Cioè Non so Cosa possa essere Tanti Penseranno Ma Un gattone Gigante Col frutto Del leone No Probabilmente È un'allucinazione Il gattone gigante C'è L'allucinazione Pure Ad ogni modo Mentre La situazione Comunque Impazzisce Abbiamo Rufy Zoro E Sanji Che arrivano E abbattono Il leone gigante Con Uno dei loro Attacchi Combinati Il capitolo Finisce Con Rufy Zoro Usop Nami E Sanji Che si riuniscono Tutti assieme E sono Tutti Vestiti Con Un outfit Da vichingo E sono pronti Ad abbandonare Quello che è Il castello Di Lego La domanda è Anzi Le domande Sono Uno Do sta Chopper Perché Dove è finito Dove è finito Chopper Perché manca Lui è uno di quelli Che non c'è Assolutamente Non c'è E Dall'altra parte Siamo Veramente Sicuri Che il castello Di Lego Sia Elbaf Perché Nulla 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 Mi vieta di pensare Che questo castello Sia In un Villaggio Un po' più evoluto Rispetto a Elbaf Che non sia Un villaggio Di vichinghi Che Semenano Come degli Stronzi Come dei Fabri Ma Che sia In un villaggio Un po' più evoluto Stile Svedesi Fanno anche la voce Così E E cose del genere E Magari Con Le costruzioni Con Magari ci siano anche Dei nani Con le case Le case Smontabili Cioè Voglio un riferimento All'ikea Visto che stiamo Parlando di Vichinghi Popolazioni Norrene Popolazioni Scandinave E tutto il resto Ci avete messi Lego Fate Minani Con le case Che possono essere Smontate Trasportate Via Ti prego Oda ti prego Fammela sta cosa qua Però Sì Sembra essere Un capitolo Introduttivo Sembra essere Il classico Capitolo Che dà Il là A quella che è L'avventura Della ciurma All'interno Della nuova Ambientazione Le righe Sono poche Non mi stupirei Che ci fosse Qualcosa Di più Oltre a Tutta questa Situazione Cioè Questa situazione Qua copre A malapena 13 pagine Ma Malapena 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 Quindi Non mi stupirei Di vedere Magari Nel mezzo Qualche Altra Situazione In O Del resto Della ciurma O Magari Esterno All'isola Però Lo scopriremo Solo vivendo Detto questo Voi sapete bene Come vi ho detto All'inizio Che I pollicioni Esistono Per spingere I video E Abbiamo bisogno Di voi Quindi quando Facciamo uscire i video Spingete I pollicioni Condividete Commentate Fate crescere Questo canale E fate crescere Anche segnali di fumetto Per il resto Io vi saluto E ci vediamo Stasera Su Twitch Per la lettura di Bleach E ci vediamo Poi domani sera Per la live Spoiler Con il buon mind Che non sa niente Come sempre Ciao belli Per una volta Non devo correre Come un dannato A ora di cena Ah che meraviglia Gli spoiler Nesta settimana Mi vogliono bene Mi raccomando Vedete Centrale Con scritto Non dimenticare Di iscriverti Bene Non ti dimenticare Di iscriverti Anche a segnali di fumetto E far crescere Quel canale Senza di voi Non cresce Ciao belli Ciao belli